eccoci mauro buongiorno ancora buongiorno a te caro ilia buongiorno buongiorno abbiamo già fatto un video insieme era il primo che facevamo l'abbiamo anche ribadito e poi ci abbiamo come dire preso gusto ma più che altro più che preso gusto io rivisto quel video e devo dire che che mi è piaciuto mi è piaciuto per tutta una serie di informazioni che ho trovato all'interno di quello che sono informazioni veramente che ti aiutano a pensare che aiutano a riflettere sono veramente degli argomenti di riflessione vede poi ci siamo risentiti abbiamo deciso di continuare questi nostri incontri infatti ciò che ci prefiggiamo con questi video è proprio avere una serie di incontri su cosmologia e filosofia ancorati cioè quindi visti dal punto di vista delle sacre scritture e anche della scienza quella vera da non confondere con lo scientismo di cui abbiamo parlato mauro quando parliamo di di cosmologia di universo credo che un punto di partenza inizio una domanda chiave per affrontarlo sia questa mi sono anche appuntato qualcosa per essere preciso l'universo ha avuto un inizio o esiste da sempre e ti faccio questa domanda perché credo che la questione sia stata affrontata nel corso della storia arrivando anche a conclusioni così vogliamo definire diverse lo chiedo a te e non lo chiedo a una persona qualunque perché ti considero un grandissimo esperto di questa materia quindi mario qual è la tua risposta esiste da sempre o ha avuto un inizio allora caro ilia io vado direttamente alla risposta secca e poi cerchiamo di sviluppare un ragionamento secondo la prospettiva cattolica è un articolo di fede che il mondo sia stato creato che la materia sia stata creata quindi che il mondo materiale e il tempo abbiano avuto un inizio nonostante ci sia stata anche diciamo la possibilità della cosiddetta creatio ab eterno cioè la creazione dell'eternità che comunque viene smentita perché la verità di fede ci dice che l'universo e il tempo hanno avuto un inizio questa è la risposta netta adesso cerchiamo un po di sviscerare la questione perché effettivamente non è che sia una questione secondaria la questione dirimente è fondamentale cioè riteniamo noi che ci sia un rapporto di dipendenza assoluta dell'universo da un creatore o che la materia sia autonoma autosufficiente automotrice auto evolvente e evolventesi perché alla fine le due possibilità le due possibilità che danno vita a due diverse concezioni cosmo filosofiche della realtà sono queste tu dicevi giustamente se ne parla dall'antichità è vero se ne parla dall'antichità e se ne parla anche in tempi moderni e attuali io vorrei portarti perché mi ne sono occupato personalmente due esempi uno è aristotele quindi capirai lì a siamo nel quarto secolo avanti cristo e l'altro è un autore moderno che è friedrich engels allora nella fisica aristotele si chiede lo scrive ma il movimento per movimento intende tutto ciò che è questa realtà che che si muove esiste fin dall'eternità oppure ha avuto un inizio sarà destinato ad avere una fine come dire il mondo che noi conosciamo ovviamente aristotele non aveva la concezione del mondo che abbiamo noi adesso ma la domanda di fondo è quella la domanda metafisica è quella il mondo il cosmo esiste da sempre o ha avuto inizio e una varana fine per aristotele non ci sono dubbi lui ritiene che l'universo sia eterno friedrich engels quando pubblica l'opera intitolata ludwig feuerbach che anche il nome di un filosofo materialista tedesco siamo nel 1886 si chiede si chiede se alla fine e più che si chiede pardon riformula questione dice che la questione dirimente fondamentale per distinguere quella che è lui la chiama spresativamente la visione clericale idealista del cosmo da quella materialista che secondo lui è quella veramente scientifica è se l'universo esiste dall'eternità oppure no quindi marxismo leninismo da un lato e cattolicesimo dall'altro si distinguono proprio nettamente a seconda della risposta che si dà questa domanda cerchiamo anche qui di analizzare la questione se si risponde alla domanda di engels dio ha creato il mondo o il mondo esiste dall'eternità dicendo che il mondo esiste dall'eternità allora io ritengo che la materia sia autosufficiente auto emotrice auto evolventesi evolventesi come dicevamo completamente autonoma e che dio alla fine sarebbe un estraneo un qualcosa che non solo viene tenuto al margine dalla scienza ma perché sarebbe troppo poco questo ma che deve essere smentito dalla scienza deve essere smentito dalla scienza questo è quell'atteggiamento scientista del quale parlavamo anche noi nell'ultimo video e ricorda un po alla fine se mi permetti faccio qua un piccolo riferimento quel famoso aneddoto che vede protagonista l'astronomo francese pier simon de laplace astronomo famosissimo il quale si racconta un giorno aveva anche un incarico politico presso napoleone si è giunto al cospetto di napoleone e napoleone avendo letto uno dei suoi libri di astronomia ed era napoleone quindi non possiamo certamente dire un cattolico era napoleone dice caro astronomo caro signor laplace lei non ha messo neanche una volta il nome di dio nella sua opera com'è questa cosa e laplace gli rispose in maniera franca tranquillissima sire dio è un'ipotesi della quale non ho avuto affatto bisogno quindi un'ipotesi della quale non ho avuto bisogno l'universo è una macchina perfetta è un meccanismo perfetto che si spiega da sé non c'è bisogno di nulla che vada al di là né della materia né delle sue leggi sono eterne le leggi sono intrinseche la materia non sono create non hanno avuto una fine addirittura laplace nel nell'opera intitolata saggio sulle probabilità siamo nel 1814 dice che un'intelligenza che conoscesse posso citare perché questa proprio una parte citata che per un dato istante conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono se fosse così vasta da sottoporre questi dati all'analisi abbraccerebbe in un'unica e medesima formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e quelli del più lieve atomo nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire come il passato sarebbe presente ai suoi occhi questo è un meccanicismo assoluto è un determinismo assoluto se io conoscessi tutti gli elementi fisici del sistema universo in un dato momento conoscerei tutto l'universo il passato il presente e il futuro ora elia è evidente che la prospettiva cristiano cattolico non può essere a favore di tutto questo certo si studia l'universo ma sempre mantenendo quel fondo misterioso che è inesauribile del cosmo nel senso che difficilmente possiamo ammettere che una mente umana arrivi a chiarire in maniera definitiva quello che è lo diceva anche papa più 12 in un suo bellissimo intervento al cospetto di astronomi e scienziati rimarrà sempre un fondo misterioso nella natura l'intelligenza che può veramente abbracciare tutto l'universo in ogni dettaglio è l'intelligenza creatrice cioè quella di dio la prospettiva cristiano cattolico dice dicevamo ritiene invece che la materia abbia avuto un inizio il mondo non è autonomo non è autosufficiente e richiede non solo una causa efficiente che l'ha creato ma anche una causa conservatrice addirittura se noi scorriamo le scritture leggiamo ad esempio che cosa vuol dire mauro causa conservatrice adesso lo spiego ci arrivo perché è fondamentale allora e nessun ente esistente nessun ente esistente nella realtà è ragione sufficiente di se stesso nel senso che io mauro stenico esisto ma non esisto necessariamente sarei potuto anche non esistere tu elia esisti ma saresti benissimo potuto non esistere non è necessario che tu esista tu sei un essere contingente come sono un essere contingente l'universo stesso alla fine è un ente un unum si direbbe per accidenti in terminologia scolastica dopo magari chiariremo questo concetto non necessario ma contingente nel senso che la realtà cosmica esiste ma sarebbe potuta anche non esistere ha avuto un inizio e avrà una fine questo ce lo dice anche la scienza ecco questo per esempio è un modo filosofico anche di usare la scienza andando al di là della scienza della scienza stessa quindi non solo noi siamo stati creati ma in ogni istante dato che non siamo ragione sufficiente di noi stessi abbiamo bisogno di una causa che ci conservi all'essere e questa è la nostra causa prima è dio tanto che è scritto a chiare lettere anche nelle scritture anche nel libro di giobbe c'è un passaggio bellissimo che se dio per un qualsiasi momento semplifico è ritirasse il suo sostegno al mondo il tutto andrebbe immediatamente nel nulla e l'uomo e il mondo e tutto quanto rimarrebbe solo dio neanche gli angeli esisterebbero più perché sono comunque creature anche se a livello ontologico superiore nel senso che hanno un intelletto diciamo molto più puro del nostro conoscono con un'intuizione immediata noi no e abbiamo bisogno di tutte le dinamiche materiali dell'astrazione eccetera comunque anche se sono creature e la cosa veramente interessante è che se noi andiamo a leggere le sacre scritture penso ai salmi penso anche a vari altri libri penso ad esempio alla sapienza eccetera noi troviamo troviamo diciamo affermato che l'universo è contingente è bello bello anche la dimensione della bellezza è fondamentale cioè dio vide che era cosa buona e giusta lo dice alla fine di ogni giorno della creazione è intelligibile questa è la cosa sorprendente secondo molti scienziati anche contemporanei c'è la una delle cose più sorprendenti è che un oggetto così grande sia intelligibile cioè lo posso conoscere in maniera compiuta è fondamentale questo e risponde a un progetto risponde a un progetto e qui se mi è permesso io vorrei smentire perché bisogna farlo l'hanno fatto tantissime persone l'hanno fatto scienziati credenti in persona ma facciamolo anche noi elia quel pregiudizio secondo quale scienza e fede si escludono secondo il quale la chiesa è totalmente antiscientifica quindi la chiesa assolutamente rigetta ogni tra virgolette progresso scientifico si escludono o sono in contrapposizione ah certo 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 come dire allora a questo punto verrebbe anche fuori mi verrebbe da dire che la nostra fede sarebbe un fideismo se escludiamo la ragione la nostra è un puro abbracciare sentimentale la fede che è quello che san pio decimo diceva lungi da noi cattolici anzi ricordiamoci e adesso ne parliamo il via se penso sia una questione di interesse dobbiamo molto di interesse davanti davanti alla scelta scegli la scienza o la religione esatto esatto ma è una roba sono due cose diverse esatto allora praticamente scegli un primo o l'insalata ma l'insalata è una cosa ha una funzione il primo un'altra funzione esatto l'esempio banale però giusto per capirci guarda di mettergli la giacca o ti metti le scarpe no io metto tutte e due perché hanno delle funzioni diverse scusa la banalità però no ma guarda che guarda che george lemaitre che è un sacerdote che è il padre della teoria del big bang l'ipotesi dell'atomo primitivo era un sacerdote innanzitutto quindi era un cosmologo fra l'altro ammirato anche da grandissimi nomi della scienza contemporanea io me ne sono occupato perché veramente è una figura per me straordinaria ma ricordiamoci che era un sacerdote che tutti i giorni diceva la messa ricordiamoci che era un sacerdote che tutti i giorni diceva il breviario confessava la gente quindi aveva il suo e faceva la sua missione di apostolato ed era anche scienziato e gli riusciva molto bene dato che è il padre di una dell'ipotesi dell'ipotesi di lavoro oggi principale in campo cosmologico allora il cristiano è vero non deve perdersi nella scienza non deve perdersi nella scienza se noi leggiamo limitazione di cristo libro fondamentale questo è detto è detto a chiare lettere ma ce lo insegna anche nostro signore leggiamo luca 9 25 a cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi finisse per perdere se stesso certo però attenzione questo non vuol dire che dobbiamo mettere da parte la scienza che il cattolico assolutamente deve escludere la scienza perché comunque è uno strumento che può avvicinare l'intelletto a dio attenzione a dio per quanto lo si può conoscere con la ragione perché poi la verità di fede va oltre la ragione ma dire che la verità di fede va oltre la ragione non significa che sia in contrasto con la ragione sono due cose ben distinte anteporre dio alla scienza non significa avversare le scienze qui io farei un riferimento al famoso syllabus di papa pio nono siamo nel 1864 dove papa pio nono condanna risolutamente le proposizioni sono classificate come 57 64 65 proposizione 57 condannata la chiesa si mostra ostile ai progressi delle scienze naturali e teologiche occhio è e teologiche perché ricordiamo che in teologia una tra virgolette capiamoci bene evoluzione ammessa ma omogenea omogenea del dogma no eterogenea come è stato fatto poi negli anni 60 dove si è completamente stravolto l'impianto dottrinale quindi sui temi della libertà religiosa sui temi della liturgia poi dove c'è stato uno stravolgimento completo questo insomma i cattolici l'ha sempre saputo i papi l'ha sempre detto non è che sia una novità cioè la proclamazione stessa dei nuovi dogmi il lavoro che ci sono delle che fatto dalle commissioni teologiche le conclusioni l'approvazione se viene approvata la conclusione dal papa e dalla chiesa e via dicendo proposizione 64 condannata il progresso delle scienze richiede una riforma del concetto che la dottrina cristiana ha di dio della creazione della rivelazione della persona del verbo incarnato e della redenzione è importantissimo allora da un lato la chiesa non è ostile al progresso scientifico ma dall'altro la chiesa dice non è il progresso scientifico che può guidare i dogmi e la dottrina come dire siccome c'è l'evoluzionismo allora adamo ideva non possono essere esistiti bon basta l'acconto della genesi l'abbiamo smentito quindi adamo ideva ma si sono un allegoria per dire che anche l'uomo c'è stato un primo uomo che è comparso però e vuci è evoluto dalle scimmie eccetera eccetera no neanche questo va bene proposito di quello che si dice quasi proprio di esistere una religione si deve adeguare alla scienza esatto esatto allora abbiamo quella che camille flammarion chiamava nel suo libro la fin du monde la religione dell'astronomia sarebbe la religione dell'astronomia quindi la scienza che diventa la vera religione dell'umanità tra l'altro su questo e lì anticipo che vorrei fare un video un video a breve però un video per il canale di filosofia perché ritengo che sia quel romanzo su questi temi particolarmente interessante però chiudo e non non approfondisco preposizione 65 il cattolicesimo odierno non può essere conciliato con la vera scienza a meno che non si trasformi in un cristianesimo non dogmatico cioè in un protestantesimo l'atto è liberale più chiaro di così più chiaro di così quindi ancora una volta abbiamo l'affermazione del fatto che la scienza non può guidare la fede non può guidare la fede non può guidare la dottrina perché se non la nostra dottrina la fede sarebbe una cosa malleabile cioè i dogmi cambiano a seconda della mentalità storica del tra virgolette progresso scientifico ecco neanche questo può essere ma si cambia anche la gerarchia cioè la parte metafisica spirituale dipende sostanzialmente dalla parte materiale e si tente del tutto a scomparire che quello che sta accadendo eh sì e vorrei anche fare un'altra citazione che stravolta trago da quel grandioso pontefice grandioso che fu leone tredicesimo veramente pontefice magnifico 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 quando si leggono le sue encicliche mi viene in mente l'era eron novarum c'è da rimanere veramente a bocca aperta ma in questa sede leggiamo un passaggio tratto dalla providentissimus deus siamo nel 1894 perché ovviamente anche i papi eh dei secoli precedenti si ponevano questo questo problema si ponevano questo quesito non è che ne fossero all'oscuro scrive mi pare 1894 1893 scusa no 93 come abbiamo detto 1893 se ho detto qualcosa di sbagliato mi scusi mi pare 94 ma non c'entra sono dettagli insomma quindi siamo avanti ok perfetto dice nessuna vera contraddizione potrà interporsi tra il teologo e lo studioso delle scienze naturali attenzione finché l'uno e l'altro si manterranno nei propri confini guardandosi bene secondo il monito di sant'agostino di non asserire nulla temerariamente né di presentare una cosa certa come incerta se poi vi fosse qualche dissenso lo stesso santo da sommariamente le regole del come debba comportarsi in tale cosa il teologo e c'è la lunga citazione distratta dal pa da sant'agostino da parte del papa e ma vale la pena leggerla tutta la citazione secondo me sì 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 leggiamo tutto perché vale veramente la pena tutto ciò che i fisici riguardo alla natura delle cose potranno dimostrare con documenti certi è nostro compito provare non essere nemmeno contrarie alle nostre lettere benissimo ciò che poi presentassero nei loro scritti di contrario alle nostre lettere e cioè contrario alla fede cattolica o dimostriamo con qualche argomento essere falso ciò che asseriscono o crediamolo falso senza alcuna esitazione questo è il succo del discorso questo è il succo del discorso quindi sostanza che cosa dice leone tredicesimo in sostanza leone tredicesimo ci sta dicendo che non è assolutamente vero che scienza naturale e fede che ragione e fede che strumento scientifico per studiare realtà e fede siano in contraddizione semplicemente cerchiamo di delimitare i campi ad esempio il fatto che uno scienziato venisse a dire io ho trovato le prove dell'evoluzione prove definitive quindi sono arrivato a smentire definitivamente l'esistenza di Adamo e Deva e questo non si può questo non si può io ho trovato le prove le prove definitive che il mondo è eterno tra l'altro mi piacerebbe anche vederle ma nessuno può asserire una roba del genere è impossibile quindi la creazione è una fesseria per cui assolutamente no quindi cerchiamo di fare in modo che la scienza rimanga nei propri limiti nei propri limiti e non invada il campo della teologia questo è il punto questo è il punto così come il teologo come il teologo anche questo è da dire quando vi sono sul campo delle nuove ipotesi scientifiche di lavoro le deve studiare non le può rigettare a priori le studia le esamina fa le critiche fa le osservazioni se poi sono veramente da rigettare le rigetta altrimenti in un modo o nell'altro vanno accolte questo è il succo chiaramente ripeto non c'è un accoglimento dogmatico di una teoria scientifica o di un'ipotesi scientifica da parte della teologia questo deve essere sempre chiaro e fondamentale e qua non rientra tra il nostro discorso ma mi verrebbe da dire alcune cose che la chiesa ha colto del chiedo scusa non ho sentito mi verrebbe da aggiungere che a livello scientifico secoli passati c'è stata qualche qualche strana teoria che la chiesa ha colto che a mio avviso non era da accogliere ma lasciamo stare sto parlando di copernico di alcune cose ma questi sono i miei studi personali che non voglio assolutamente che interferiscono in quanto ci stiamo dicendo mauro tu prima hai parlato di universo convincente possiamo approfondire un po questo aspetto hai già toccato l'argomento prima però magari vediamo di entrarci un po più dentro benissimo allora innanzitutto spieghiamo la differenza di contra contingente e necessario in filosofia sono due concetti fondamentali allora necessario è ciò che è e non può non essere né può essere diversamente da quello che è contingente è ciò che è e potrebbe non essere o potrebbe essere diversamente da come è quindi differenza fra contingente e necessario dio è necessario il mondo e l'uomo sono contingenti come abbiamo detto prima penso che su questo allora siamo già abbiamo già le idee chiare il libro della genesi comincia in maniera netta stabilendo il rapporto di dipendenza assoluta della materia del mondo da dio in principio dio creò il cielo e la terra quindi viene già posto avanti la prima verità assoluta di fede la prima verità rivelata ovvero sia che il mondo dipende assolutamente da dio poi c'è da fare anche un approfondimento sul concetto di creazione un approfondimento fra virgolette allora noi nel nostro mondo noi con gli strumenti della scienza naturale con l'osservazione non assistiamo a fenomeni di creazione mai fabbricazione generazione formazione produzione ma la creazione ex nichilo che è il passaggio già quando dico passaggio sbaglio perché do l'idea che qualche sia qualcosa tipo un movimento già sto sbagliando ma di lo diciamo per semplificare il discorso dal non essere all'essere è un quel è un salto ontologico infinito dal nulla qualcosa che è e può essere appannaggio soltanto di un essere onnipotente lo spiega benissimo santomaso l'unico ente che può operare il passaggio dal non essere all'essere è un ente sommamente potente cioè è dio l'essere onnipotente per antonomasia quindi c'è la creazione della materia come c'è la creazione delle nuove anime delle nuove anime nate delle nuove anime nate dio non si servì di alcun che di preesistente questo è il chiaro a differenza di quello che invece dicono le filosofie pagane le cosmogonie cosmogonie non cosmologie cosmogonie perché sono più improntate sul racconto della generazione dell'universo antiche pagane io vorrei fare ma scusa mauro puoi spiegare meglio questa questa differenza tra 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 cosmogonia e cosmologia esatto esatto va bene magari facendo qualche esempio anche se possibile sì 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 lo farò lo farò molto volentieri allora di per sé la cosmologia è la scienza che può essere affrontata a mezzo delle scienze naturali o anche filosofica che si occupa dell'universo nel suo complesso quindi ne studia compiutamente la nascita lo sviluppo e la fine se si ritiene che abbia una fine se si ritiene che abbia uno sviluppo se si ritiene che abbia un inizio questa è la cosmologia e ne studia contemporaneamente anche la configurazione ne studia la forma ne studia il contenuto eccetera eccetera questa è la cosmologia la cosmogonia è una parte possiamo dire una parte di quella parte della cosmologia che più prettamente si occupa dell'origine dell'universo quindi si concentra proprio sulla questione dell'origine ad esempio l'emettre quando parla del suo atomo primitivo lui parla non di cosmologia ma di cosmogonia nel senso che è proprio riferita al momento iniziale della nascita dell'universo quindi non è che l'una cosa escluda l'altra sia chiaro è come se dicessimo la cosmogonia la cosmogonia più riduttiva in sostanza sì fosse una parte una parte della cosmologia oggi però abbiamo più l'idea che la cosmogonia sia legata al mito delle civiltà antiche ma in realtà vedere le cose non sarebbe proprio così cosmogonia è la parte è quella parte della scienza quella parte della cosmologia che si occupa della generazione dell'universo quindi non è che stia facendo quando faccio cosmogonia per forza mitologia eccetera è quella di di mosè della genesi si chiama cosmogonia mosaica cosmogonia mosaica che non è una mitologia comunque assolutamente è diciamo un pregiudizio che abbiamo allora molto spesso le cosmogonie pagane antiche parlano della generazione dell'universo ma sempre a partire da un elemento preesistente ad esempio può essere l'uovo cosmico primordiale o l'uomo cosmico primordiale ad esempio nella cosmogonia hindù c'è purusha questo uomo gigantesco che viene smembrato e le sue parti smembrate danno origine alle varie parti dell'universo o viene in mente anche la cosmogonia cinese antica vi è un caos primordiale che si coagula spontaneamente in una sorta di uovo cosmico che poi viene frammentato dal gigante pangu c'è la cosmologo la cosmogonia norrena vichinga smembramento del gigante imir poi attenzione abbiamo la cosmogonia azteca ne abbiamo finché vogliamo il dio del fuoco invia parti del suo stesso corpo ai quattro angoli del mondo ma poi volendo il caos primordiale quindi il tentativo di spiegazione della generazione della generazione del cosmo da qualcosa che già preesiste lo abbiamo anche nei filosofi antichi occidentali ad esempio platone ci parla della esistenza di una materia disordinata che viene plasmata dal demiurgo che non è niente affatto il dio onnipotente è una divinità insomma inferiore che plasma la materia in forme sul modello delle idee che invece sono gli esemplari perfetti della delle cose che poi esistono nella realtà ma torniamo a noi questo discorso partirebbero tutti da qualcosa di già preesistente è certo 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 di fatti il il centro veramente del racconto cosmogonico per come inteso nelle sacre scritture è il fatto che vi è invece una creazione a partire dal nulla tra virgolette a partire perché ripeto la creazione è un atto immediato e non è un passaggio e non è un passaggio ed è un qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare ilia perché se tu provi mentalmente a immaginarti la creazione di qualcosa non ce la fai perché tu pensi sempre qualcosa tu pensi sempre qualcosa quindi questa è la differenza fondamentale tra cosmogonia presentata dalle sacre scritture e cosmogonie di altro tipo attenzione poi perché il discorso si fa anche interessante alla creazione segue se noi leggiamo il racconto del genesi segue anche il modellamento il modellamento cioè noi capiamo che che poi sia distribuita la creazione artisticamente in questi sei giorni va benissimo perfetto va benissimo capiamo che c'è stata la creazione della materia poi c'è stato un modellamento della materia la terra primordialmente era in forma eccetera poi viene data una forma poi vengono creati i grandi luminari del cielo il sole la luna le stelle il firmamento le acque superiori le acque inferiori gli esseri del mare gli esseri della terra i vegetali alla fine l'uomo e poi c'è tutta la storia che insomma ci viene ci viene raccontata per modellamento che cosa si intende esattamente che cosa comporta allora significa che la inizialmente c'è questa creazione della materia la materia inizialmente deve essere in qualche modo plasmata deve essere plasmata deve essere modellata a generare quelle forme che poi si sarebbero succedute nel corso del tempo quindi ad esempio l'uomo eccetera e quindi sostanzialmente il primo uomo non può essere derivato da una materia che si auto che si auto che auto evolve che automotrice ma da un da un'attività da un'attività che è stata svolta sulla materia stessa da parte di un ente superiore e questo è e questo è dio questo questo è dio quindi non solo la sciocchezza ma nel modellamento non c'è anche la finalità certo è certo 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 assolutamente sì assolutamente sì di fatti e qual è la finalità la finalità in realtà è che in questo caso per un puro atto libero e d'amore dal momento che dio non è stato costretto a creare alcunché né c'è un'emanazione necessaria come avviene in alcune filosofie filosofie antiche crea tutto crea l'uomo semplicemente perché è il bene assoluto e bonum est diffusivum sui come dice padre antonio roio marin grande teologo dominicano quindi il bene tende di per sé stesso a diffondersi e qual è la finalità di questa creazione è la gloria stessa di dio non è una finalità esterna non è una finalità esterna è la gloria stessa di dio la gloria stessa di dio e quello che però volevo dire è quanto è quanto segue allora abbiamo individuato due fasi della cosmogonia biblica creazione e modellamento in un certo modo elia la scienza naturale pur con il suo linguaggio pur con il suo linguaggio ci conferma tutto questo cioè ci conferma che l'universo la materia ha avuto un inizio quindi che l'attuale costituzione dell'universo non è eterna ha avuto un inizio ha avuto uno sviluppo e nel corso di questo sviluppo si sono formati vari enti che popolano l'universo ora io su questo voglio essere chiaro voglio essere chiaro a scanso di equivoci sostenere che l'universo abbia avuto una evoluzione come quando srottono un libro è da lì che deriva insomma il verbo di evolvere no evolvere evolversi non significa che io stia anche accettando l'evoluzionismo della specie umana quindi sono due cose due cose ben distinte ci tengo tengo molto a mettere le mani avanti su questo su questo punto e allora dicevamo che la cosmologia moderna ci mostra che questo universo ha avuto un inizio e ha avuto uno sviluppo e avrà anche una fine quindi sostanza come un essere vivente ha una vita quindi significa che è una creatura ora una cosa importantissima ne parlavamo prima di iniziare l'intervista se ti ricordi e via la distinzione del fatto dal modo del fatto dal modo questo lo spiega nessuno siamo detti che un fatto in realtà è ciò che è accaduto un conto è il modo in cui poi viene narrato che può variare nel corso dell'epoca nel corso della storia a seconda delle delle civiltà a seconda delle culture quindi un conto è il fatto che rimane tale un conto è come viene raccontato sono due cose diverse esatto allora prendiamo le mosse comunque sempre dal fatto e non da come magari viene raccontato giusto esattamente allora e se noi andiamo a leggere il dizionario biblico di monsignor francesco spadafora siamo nel 1963 lui parlando dei primi versetti del genesi ci dice che nella cosmogonia mosaica dobbiamo chiaramente appunto distinguere il fatto narrato da musè dal modo il fatto è la creazione del mondo il fatto è la creazione del mondo di tutto ciò che esiste mentre il modo in cui lo narro è l'utilizzo delle cognizioni scientifiche di una data epoca l'opera creatrice per la mentalità dell'epoca viene suddivisa artisticamente artigianalmente se vogliamo in sei giorni anche per rimarcare l'importanza del riposo nel settimo giorno nel settimo giorno quindi c'è chi dice c'è chi dice eh ma allora l'universo con miliardi di anni smentisce definitivamente la fede smentisce definitivamente il racconto mosaico ma non scherziamo non scherziamo non è una questione di quantità se vogliamo una questione di qualità è una questione di qualità cioè la creazione è un fatto che non può essere smentito nonostante il progresso scientifico anche perché non troveremo mai nessuno scienziato mai nessuno scienziato che possa socialmente spingersi al di là della natura stessa quindi la scienza naturale si chiama scienza naturale per la fisica si chiama physis natura perché può studiare la natura stessa ma non ciò che precede la natura perché questo è parte della metafisica e appannaggio della metafisica non so se ho reso ma la metafisica cioè la filosofia è riuscita a dimostrare nel corso del tempo che è in grado come dire di risalire all'inizio di questo universo convincente cioè riuscita a dimostrare la causa beh sì questa sarebbe sarebbe proprio quello di cui vorrei discutere nel corso di queste nel corso di queste lezioni cioè tu mi stai chiedendo praticamente le argomentazioni che ci portano a mostrare che l'universo è contingente in pratica è questo è questo in cui stiamo parlando certo e ne dobbiamo anche parlare in maniera diffusa sarà anche l'obiettivo che ci proponiamo da qui diciamo ai prossimi incontri allora il rapporto tra causa mauro ti interrompo un attimo devi scusare io mi rendo conto che ti sto chiedendo tantissimo perché sono argomenti che richiedono grande competenza richiedono tempo per poter dimostrare determinate cose quindi noi non vogliamo esaurire con questi video tutto ciò che c'è da dire su certo ma ci mancherebbe anche perché insomma è anche il caso di di argomentare fare citazioni tutta una serie di cose insomma però devo anche dire che per chi è interessato a questi argomenti tu hai fatto un grandissimo lavoro perché tu non è che ne parli solo nei video tu sei un grande studioso di queste cose hai anche scritto su dei libri e li hai anche regalati io ho letto veramente con molto interesse ma ripeto la stessa cosa che dicevo l'altra volta non si tratta di fare scopi si tratta di di dare informazione c'è chi vuole approfondire questi argomenti su quali testi anche tuoi può vederli può studiarli può informarsi allora io personalmente mi sono mi sono permesso di scrivere due due piccoli volumi su questo argomento della cosmologia affrontata da una prospettiva cattolica e sono un volume uno del 2016 l'altro del 2017 il volume del 2016 è intitolato la meraviglia cosmica saggezza divina e natura celeste esatto 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 l'altro del 2017 che è stato pubblicato a trento con la casa l'editrice del museo storico del trentino si intitola dall'archè al big bang dall'archè al big bang george lemaitre e la grande narrazione cosmica da 900 pagine no e il librone da 900 pagine è la ragionevole creazione è la ragionevole creazione l'altro è quello più piccolo esatto ecco questi sono due volumi per i quali volendo se qualcuno fosse interessato lo dico così può scrivermi può scrivermi direttamente perché in commercio non mi pare neanche che si trovino che si trova magari poi alla fine del video possiamo mettere le copertine così tanto per informare certo sì sì magari alla fine se mi autorizza alla fine del video mentre certo per fine dei libri perfetto continuiamo ma continuiamo allora guarda e tu mi hai chiesto adesso faccio un po il punto che la filosofia ha dimostrato nel corso del tempo di essere capace di arrivare alla causa dell'inizio certo non solo la causa dell'inizio ma la causa dell'essere delle cose alla causa dell'essere delle cose allora guarda per dimostrare l'inizio ti faccio un ragionamento semplicissimo posto che la scienza stessa quindi non solo la rivelazione ci dice che l'universo ha avuto un inizio la domanda semplice ma chi ha fatto scattare l'inizio che cosa allora o ammettiamo che la materia si sia autodata in inizio quindi ma non so come contemporaneamente la materia possa essere potenza e atto nel senso che una materia che è in potenza ad un certo punto si è svegliata e ha deciso di dar vita all'universo di iniziare autonomamente il proprio percorso evolutivo l'ha fatto circa dice la scienza 13,7 miliardi di anni fa non sappiamo perché in quel momento non sappiamo per cosa oppure ciò che appare più razionale ciò che appare più razionale è pensare che ci fosse già una causa in atto che effettivamente ha dato sì ha fatto sì che questa potenza passasse all'atto passasse all'atto e che ha posto il il tutto anche perché qui e lì c'è anche una legge una legge fisica che parla che alla legge di inerzia cioè la materia inquiete inquiete in perpetua quiete non può autodarsi da sé una spinta e partire da zero mentre la materia pernemente in movimento da tutta l'eternità non ci spiega perché proprio ad un certo punto allora si sia formato il mondo poi l'uomo eccetera quindi ci troviamo di fronte a dei quesiti che sono più che di natura scientifica certo possono prendere le mosse delle scienze sia chiaro sia chiaro però sono di carattere filosofico metafisico ma per tornare al discorso nostro se la filosofia sia stata in grado di dimostrare questo rapporto di dipendenza della causa all'effetto dalla causa beh diciamo che lo ha fatto in varie maniere allora come ci dice santo maso santo maso qui si sta parlando delle prove dell'esistenza di dio è certo perché se io ritengo che l'universo abbia avuto una causa devo anche studiare questa causa questa causa che evidentemente è dio posto che ripeto il concetto di creazione del mondo rimane un articolo di fede dopo vorrei fare un piccolo approfondimento anche su questo perché secondo me nella somma teologica prima parte santo maso distingue due tipologie di prove dell'esistenza di dio una tipologia sulla quale non ha fiducia e dice sembra più un argomento sofistico e l'altra sulla quale dice qua la filosofia ha un ruolo fondamentale la prima tipologia di prove dell'esistenza di dio è quella che lui chiama la propter quid propter quid che procede dalla causa agli effetti ed è il celebre argomento di santa anselmo da osta grandissimo santo grandissimo teologo e grandissimo filosofo nella sua opera proslogion o proslogio in italiano sant' anselmo dice dio è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore quindi è l'ente massimo in assoluto ora l'ente massimo in assoluto deve avere tutte le perfezioni tutte l'esistenza è una perfezione l'essere perfetto l'essere sommamente più grande di tutti deve esistere per forza perché attenzione se io pensassi all'ente massimo in assoluto privo di esistenza sarebbe privo di una fermezza di una perfezione quindi quindi non sarebbe l'essere sommamente perfetto allora santo maso dice qua mi sa che stiamo operando un passaggio in debito dal piano logico al piano ontologico nel senso che l'esistenza è un predicato ontologico non è un predicato logico io prima devo dimostrare che questa realtà esista per poi attribuirgli tutte le perfezioni eccetera eccetera vale anche la pena di ricordare elia però che sant' anselmo prima di dare questo argomento a priori come lo chiamò questa prova ontologica come la chiamò kant no sant' anselmo aveva nel suo monologio dato varie prove a posteriori dell'esistenza di dio lui in pratica propone questo argomento a priori a priori perché parto da dio stesso non dal mondo parto dalla causa stessa riservandolo a chiunque fosse già a dentro la fede più che ritenerlo come un argomento veramente veramente dimostrativo dimostrativo prima c'è il monologio dopo c'è il proslogio prima gli argomenti a posteriori poi gli argomenti a priori l'altra tipologia di prova quindi questa era la propter quid che santo maso ci presenta nella nella somma teologica è la prova quia cioè che parte dagli effetti per risalire alla causa sono i famosi argomenti a posteriori vi rientrano le famose cinque vie di santo maso d'aquino attenzione santo maso d'aquino come tutti i grandi teologi su questo è chiarissimo dice noi abbiamo bisogno di dimostrare l'esistenza di dio perché perché qui sembra sembra che io a questo punto dica un qualcosa di bizzarro strano però non è così l'esistenza di dio non è evidente attenzione lo ripeto l'esistenza di dio non è evidente come due più due uguale quattro altrimenti tutti avrebbero la fede è evidente quod se cioè in sé ma non quod nos cioè per noi nel senso che la proposizione dio esiste dice santo maso considerata in sé stessa è evidente perché in essa il predicato si identifica col soggetto quindi se dio è l'ente maggiore riprendiamo santo anselmo maggiore in assoluto a tutte le perfezioni quindi anche l'esistenza il problema è che però noi non conosciamo l'essenza di dio noi non conosciamo l'essenza di dio e dunque tale proposizione è evidente in sé ma non per noi in altre parole la fede non può essere il primo mezzo di conoscenza che si invoca per risolvere la questione di dio io non posso dire dio esiste perché ho fede che esista non posso dirlo se no andiamo credulità diventa credulità eh sì ma andiamo anche nel campo del fideismo abbiamo quindi affinché la fede sia fede e non fideismo noi abbiamo bisogno di motivi di credibilità questi motivi di credibilità sono preliminari agli articoli di fede e sono i famosi preambula fidei i preamboli alla fede quindi la fede in un qualche modo suppone la conoscenza naturale anche se poi la oltrepassa in maniera diciamo infinita faccio un esempio faccio un esempio chiaro così chiarisco la questione io difficilmente potrò credere che dio sia uno e trino se prima non so che dio esiste quindi la dimostrazione dell'esistenza di dio se ne occupa la filosofia tant'è che era accessibile la prova dell'esistenza di dio qui a cioè dagli effetti alla causa anche ai filosofi pagani quindi viene questa e c'è poi la fede che oltrepassa la ragione che oltrepassa la ragione e in questo senso le scienze naturali possono darci un grandissimo aiuto possono essere usate come strumento come strumento da parte dell'intelletto umano da parte della fede e da parte della teologia attenzione anche perché vale la pena dire che le sacre scritture sono severissime con coloro che contemplano l'universo che è la creatura ma non arrivano al creatore sono molto severe facciamo degli esempi prendiamo ad esempio il sa il libro della sapienza 13 1 9 vani per natura sono tutti gli uomini cui manca la conoscenza di dio e che dai beni visibili non seppero conoscere colui che è né dalla considerazione delle opere riconobbero l'artefice ma il fuoco o il vento o l'aria mobile o il cielo delle stelle o la gran massa delle acque o il sole la luna credettero dei governatori del mondo se dilettati dalla bellezza di tale cose le supposero dei sappiano quanto più bello di esse è il loro signore già che l'autore della bellezza creò tutte quelle cose se furono colpiti invece dalla loro potenza ed energia intendano da esse che più potente di loro è colui che le produsse eccetera poi va avanti il la parte del libro della sapienza dice che comunque questi qua hanno cercato di contemplare la bellezza della creatura ma sono condannabili non sono da perdonare perché se tanta scienza riuscirono ad avere da poter scrutare il mondo come mai non trovarono più prontamente il signore di esso questo è il punto quindi non è che sia un male fare scienza dell'universo è fare un male ridurre tutto alla scienza dell'universo torniamo sempre gira che ti gira torniamo sempre lì torniamo sempre lì leggiamo poi il il salmo 18 18 2 i cieli narrano la gloria di dio e le opere delle sue mani annuncia il firmamento quindi troviamo un sacco di testimonianze della nella scrittura che certifica come al fine l'opera stessa richiami il suo creatore lettera ai romani per noi cattolici e fondamentali c'è un passaggio nella lettera romani di san paolo che il famoso passaggio 1 20 in cui si dice le perfezioni invisibili di lui lui ovviamente è dio fin dalla creazione del mondo comprendendosi dalle cose fatte si rendono visibili come la sua eterna potenza e la sua divinità quindi san paolo ci sta dicendo noi dalla creatura possiamo risalire al creatore di più san pio decimo del quale pochi giorni fa abbiamo festeggiato tra l'altro abbiamo c'è stata la festa il 3 settembre nel suo giuramento antimodernista siamo nel 1910 ricordiamo che fu abolito dopo il vaticano secondo in uno dei passaggi dice credo che dio principio e fine di tutte le cose possa essere conosciuto con certezza no con probabilità con certezza certezza ed evidenza comunque sono due cose distinte ma e può anche essere dimostrato con i lumi della ragione naturale nelle opere da lui compiute cioè nelle creature visibili come causa dai suoi effetti quindi torniamo a ribadire che la la nostra fede non è fideismo perché ci sono dei preambula fidei che sono la base la conoscenza naturale porta i preambula fidei sulla base dei quali poi noi come uomini di fede ci muoviamo e questi preambula fidei alla fine sono cinque uno l'esistenza di dio posso provare con la ragione certo due l'esistenza di principi primi della conoscenza il principio di non contraddizione ad esempio il principio di causa efficiente il principio di finalità eccetera eccetera tre la nozione di un ordine naturale quindi che esista un ordine naturale al quale non si può derogare aggiungiamo noi in ottica di fide di fede se non per miracolo se non per miracolo quarto i precetti della legge morale naturale i dieci comandamenti sono iscritti nel nostro cuore ce lo spiega san paolo sono iscritti nel nostro cuore quinto l'esistenza dell'anima ora tutti questi preambula fidei sono dimostrabilissimi dalla ragione sono io da qui parto per dopo insomma muovermi anche nel nell'ambito della nell'ambito della fede quindi morale della favola le scienze naturali procedono da principi accessibili alla ragione possono essere un valido aiuto per avvicinare l'intelletto alle verità di fede ricordiamoci che la teologia la teologia si serve delle scienze come di uno strumento perché ci spiega san tommaso che il nostro intelletto nella sua debolezza parte dalle cose conosciute con il lume naturale della ragione viene condotto più facilmente dalle cose che conosciamo con la ragione con lume naturale ragione come per mano alla conoscenza delle realtà soprannaturali insegnate dalla scienza teologica che è quello che aristotele alla fine scrive nella sua metafisica dice che le realtà più nobili sono quelle che da noi vengono conosciute dopo noi partiamo prima dalle cose che sono immediatamente accessibili ai sensi il mondo i colori suoni gli enti naturali poi da qui la nostra ragione deve fare uno sforzo risalire a quello che è oltremateriale nel caso di aristotele il motore immobile nel caso nostro ci beh possiamo parlare anche lì di dio anche se ovviamente nulla a che fare con il dio cristiano con la provvidenza cristiana eccetera sai mauro che mentre parlavi io facevo una riflessione un po tra me e meno e dicevo che tutti questi questi argomenti sono tematiche assolutamente fondamentali sono scomparse dall'universo scolastico non è troppo in traccia se non deformata a partire dalle elementari e fino all'università non credo che entrambi possiamo dire l'università perché entrambi l'abbiamo fatta allora io stavo stavo collegando la nascita delle scuole parentali con questi argomenti e non solo perché la butto là magari l'argomento lo affrontiamo poi nel prossimo video perché credo che sia importante dargli un po più di spazio allora io sono convinto che la educazione e anche l'istruzione spetti ai genitori e non allo stato perché finché l'istruzione è sotto il dominio dello stato lo stato ti dà le conoscenze adeguate o fatti diventare un perfetto schiavo ma queste sono le mie idee la scuola quindi una scuola vera non può essere statale non può essere statale e visto che c'è il proliferare o almeno c'è l'idea di tanti o l'esigenza di tanti di mettere in piedi delle scuole parentali magari possiamo lanciare io te la lancio a te ne parliamo prima magari privato e poi magari lanciamo un'idea per quanto riguarda le scuole parentali adesso magari non vorrei appesantire questo video però ritengo che l'argomento sia assolutamente importantissimo sia anche urgente quindi alle caratteristiche delle priorità importante e urgente è un argomento veramente importante e urgente se tu sei d'accordo magari lo approfondiamo un po la prossima volta anche alla luce delle cose che tu fai e magari che ne so lanciamo lanciamo una proposta che può essere veramente molto interessante cosa ne pensi sono assolutamente d'accordo anche perché concordo con tutto il discorso che hai fatto e peraltro con la prima parte allora l'educazione da diritto naturale spetta in primo luogo ai genitori alla famiglia ai genitori che poi possono delegare ad altre persone o a un'istituzione quindi il genitore può delegare attenzione può delegare può delegare ora noi in italia pur con tutto il male eccetera abbiamo ancora la possibilità dell'educazione parentale ecco dopo sappiamo che ci sono in corso di dibattiti di obbligatorietà eccetera e questo mentre in altri stati è proibita per legge l'educazione parentale è proibita proprio per legge sotto pene severissime severissime per cui ben venga vale la pena di approfondire il discorso anche perché caro ilia o i cattolici in qualche modo si muovono in questo contesto oppure possiamo star qua a fare tutti i video che vogliamo possiamo approfondire utilissimo per carità bellissimo però gira che ti rigira c'è bisogno anche di una formazione di una formazione giovanile che non è che dobbiamo necessariamente dare noi però noi possiamo lanciare il sassolino è prioritaria non a caso signori che ci governano e beh alla scuola hanno dedicato particolare attenzione molta molta attenzione per ridurla nello stato in cui è quindi nel momento in cui noi affrontiamo questi argomenti non possiamo non prendere in considerazione l'istruzione dei giovani perché dall'istruzione dei giovani dipende poi il futuro di una di una società di una collettività della strada che prenderà dice cosa si affermerà e ciò che verrà escluso c'è proprio la direzione che prenderà una società e i singoli quindi non possiamo escludere magari io farò anche qualche riferimento ma pochi a partire dalla riforma gentile che cosa comportò ma è giusto per far capire l'intervento massiccio dello stato l'istruzione dove conduce dove conduce conduce dove conduce laddove siamo arrivati e abbiamo una realtà sotto gli occhi quindi l'educazione parentale diventa qualcosa di assolutamente prioritario e noi non possiamo non affrontarlo questa è la mia idea se hai qualcosa da aggiungere altrimenti chiudiamo qua questo video ti ringrazio ancora per la tua grande disponibilità e facciamo in modo ma devo avere un appuntamento fisso magari questi video li pubblichiamo tutti lo stesso giorno va bene sanno che un certo giorno della settimana troveranno il video di mauro stenico che io vi invito mauro si apprezza posso dire una cosa forte prego si apprezza nel tempo non pensate di apprezzare mauro vedendo solo un video c'è bisogno di continuità e magari anche di leggere qualche sua opera perché lo so apprezzerà molto di più si apprezzerà il metodo si apprezzerà lo scrupolo si apprezzerà la grande coerenza la grande onestà intellettuale sto facendo uno spot perché io leggendo anche i suoi libri ho imparato appunto ad apprezzare quindi mario se qualcosa da aggiungere altrimenti direi di chiudere qua questo video no elia io per il momento mi fermerei qui anche perché se siamo d'accordo ci saranno vari vari video varie vari incontri vari incontri e quindi avremo modo anche prossimamente di affrontare le questioni lasciate aperte perfetto mauro allora alla prossima intanto grazie e appunto alla prossima ciao mauro un saluto a tutti arrivederci grazie elia ciao 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 Grazie a tutti.